Se vuoi iniziare con il racing ma non vuoi spendere tanto e vuoi ricicliare un po' di componenti che hai già in casa o una build che avevi fatto per freestyle ho un telaio che potrebbe fare a caso tuo. Io sono Mattia e oggi parliamo del Source V di TBS. Il Source V è un telaio che è nato nel progetto Source, cioè la serie di telaio che TBS vende ma che sono basati su progetti open source. Quindi qualsiasi altro produttore di telai può prendere il progetto e vendere la sua versione di questi telai. Il più famoso è il Source One che è il telaio da freestyle che vi ho mostrato anche in questo canale che ha varie versioni, è arrivato fino alla V5 se non sbaglio, ma ci sono anche versioni fatte per il racing. C'è la Source 2 che è la versione per racing classica e poi c'è questo che è il Source V vertical perché è la versione con telaio boxed, quindi con le lastre da spessore sottile 2.5 mm ma montate perpendicolarmente alle piastre top plate e bottom plate. È una costruzione che conosciamo già perché è la costruzione che ha anche i Fox, che è il frame che utilizzo per le gare ma che è anche il frame più usato nel campionato italiano. È un tipo di telaio che ha delle proprietà a livello di vibrazioni ma anche di sensazione in volo molto particolari. Se provate un quad vertical difficilmente secondo me tornate ad un quad con telaio classico a meno di esigenze molto particolari. Questo è in realtà un modello abbastanza vecchio, il Source V è nato prima del Fox e infatti il Fox e ve lo farò notare poi ha varie soluzioni che mostrano come sia un'evoluzione rispetto a questo telaio. Però per chi vuole spendere pochissimo questa rimane secondo me un'opzione o comunque vi togliete una curiosità come ho fatto io prendendolo. Questo è un telaio che si trova a prezzi molto bassi appunto perché appartiene alla famiglia dei Source e su TBS si riesce ad acquistare ad appena 20 dollari. Esiste una versione con delle barre per rinforzare il fronte e il retro e quella si viene a pagare se non sbaglio 25 euro quindi comunque una cifra molto bassa. Si trova anche dall'Italia e vi lascio il link in descrizione sia per acquistarlo da TBS che da Drone 24 Hours che di solito lo ha in stock qua in Italia. E magari ripeto è un modo per poter ricicliare un po' di componenti che avete già e fare un tentativo con un frame boxed. Dico questo perché questo è un telaio che nasce per gli stack 30-30 e quindi al di là dei fori 30-30 ha moltissimo spazio per andare a montare tutto quello che vi serve che sarebbe quindi magari un ESC 4 in 1, un FC ma vi rimane spazio anche per un'eventuale terza scheda quindi una VTX di quelle grosse che magari ripeto ricicliate da un quad freestyle o anche altri componenti per esempio per il digitale se volete provare a volare con un racer digitale. Non credo ci stia la O3 però ci sta tranquillamente una Caddx vista soprattutto se la fate naked e assolutamente ci sta senza problemi sia la VTX di Wolksnay sia una VTX anche freestyle di HD0. La cosa più sensata in effetti sarebbe utilizzare una VTX HD0 su questo tipo di quad. Il telaio chiaramente rispetto a soluzioni più moderne e anche più costose come il Fox ha le sue limitazioni e andiamo a vederle sia con il telaio senza componenti montati sia poi con i componenti assemblati. Io con questo quad ci ho già volato, l'ho provato ma per dirvi poi se la resistenza è in pari a quella del Fox ho bisogno di farci almeno una garetta quindi aspetterò magari per questo e vi darò informazioni più avanti sempre tramite i miei social su Instagram o sul canale Telegram. Quindi se non lo siete già iscrivetevi ai miei social. Vi mostro un po' il frame a banco prima di mostrarvelo poi con tutti i componenti installati per mostrarvi un paio di differenze soprattutto con quello che è il frame di riferimento Boxed secondo me che è il Fox. Qui vedete il mio Fox, uno dei miei Fox e potete vedere da subito innanzitutto che la prospettiva magari inganna un po' ma è un po' più piccolo il Fox rispetto a questo direi almeno un centimetro e mezzo due in questa direzione quindi di diagonale ancora di più. Però vediamo un po' le altre cose diverse e la diversità che forse interessa a più persone è che su questo frame potete usare anche il 30-30. Ora ci sono versioni nuove o comunque che vedrete tra poco del Fox con i pattern 30-30 però questo lo ha sempre avuto. Difetto però è che i fori 20x20 che vedete qui ci sono ma non sono M3 sono degli M2 quindi nel mio caso per usare hardware M3 per montare stack 20-20 moderni bisogna aggregare questi fori con una lima o con una punta da trappano. Niente di trascendentale anche perché in realtà ci sono adattatori per usare le M2 sugli stack che usiamo noi con i 20x20 normali però è da notare. Comunque come spazio qui c'è spazio per praticamente qualsiasi stack perché non ci sono grossi problemi anche lo spazio vedete verticale è molto rispetto a quello che abbiamo sul Fox nonostante il Fox divide in due piani e qua si riesce quindi a montare la terza scheda. Si può fare anche sul Fox con delle canopy diverse, le versioni per esempio per HD0 però qua è diciamo già pensato per questo quindi idealmente si potrebbe fare una build molto semplice con ESC FC e poi una board come quella di Ghost che include la VTX e la ricevente. Io uso Express RS quindi per me cambia poco a meno che non escano in futuro delle board che integrano VTX e OpenVTX con una ricevente Express RS e quello sarebbe un prodotto interessante. Il peso ve lo mostro a schermo ed è un peso che non è per niente male considerando anche l'interesse che è maggiore su questo frame e poi il resto non c'è molto da dire se non un confronto magari degli spessori, delle barre e di tutto il resto in cui possiamo notare che comunque gli spessori delle parti principali sono gli stessi abbiamo due millimetri e mezzo di spessore sui tiranti e due millimetri e mezzo sui braccetti una cosa che però dovete considerare e che una volta che andrete ad assembliare il telaio vi farà rimpiangere un po' il Fox è che qui hanno una complicazione un po' più alta rispetto a quella del Fox il Fox ha quattro braccetti uguali e quattro barre uguali, due piastre uguali e poi ci mettete sopra la capottina quindi il vantaggio è che vi serve avere in casa meno ricambi perché potete tenervi per esempio un braccetto che tanto è uguale su tutti e quattro i lati e una piastra che tanto ne avete due uguali qui invece c'è una complicazione un po' diversa perché le piastre per i motori sono diverse sul fronte e sul retro quindi già lì dovete avere due tipi diversi di ricambi i braccetti sono diversi, quelli del fronte e quelli sul retro vedete che la geometria è fatta in modo che il corpo del drone venga più sul davanti questo perché essendo che lo stack viene in mezzo alle piastre dei portamotori per intenderci la cam sarebbe stata troppo bassa e vi avrebbe portato a vedere la barra anteriore nel feed video spostando il corpo tutto in avanti si riesce a non vedere la barra questa stampa è una stampa che ho fatto io trovata su Thingiverse ma vi danno inclusi i due supportini anzi ve ne danno più di due per poter montare una cam con il metodo classico e però questa protegge molto di più la cam quindi è una stampa che vi consiglio di fare assolutamente se prendete questo frame e poi diverse sono anche le due piastre della bottom plate e della top plate quindi i ricambi da avere in casa sono un po' più complessi d'altro canto però ripeto frame che su TBS si trova a 19 euro quindi ne comprate tre e avete ricambi finché volete volare in chiuse ovviamente ci sono anche le viti dei motori quindi diciamo i frame ve lo danno completo per essere assemblato in una build vedete qui il Source V assemblato ho usato uno stack 30x30 che avevo recuperato da un quad freestyle di tempo fa motori sono i motori che in realtà ho provato praticamente su tutti i quad da gara che ho avuto perché sono i Xing e Pro con cui mi sono trovato bene come motori d'allenamento quindi ne ho sempre dei set in casa per il resto niente di particolare nell'assemblaggio anzi superato lo scoglio dell'assemblare il telaio che è un po' complicato perché vi dicevo le piastre sono diverse praticamente in ogni lato e ci sono braccetti diversi e piastre motori diversi l'assemblaggio è stato molto semplice perché è un telaio che ha parecchio spazio lo stack 30x30 ci sta bello largo c'è sul retro da notare questo spazio apposito per la fascetta su cui fissare in teoria il cavo del XT60 io invece ci ho fissato il condensatore visto che è un condensatore abbastanza generoso ed XT60 l'ho fatto uscire di lato vi lascio una foto a schermo dello stack senza la top plate così vedete anche come ho disposti i componenti comunque con riceventi Express RS e le VTX che si usano per i quad da gara che sono molto compatte lo spazio è veramente anche troppo in realtà e infatti ci sono alcune cose che cambierei di questo telaio ed essendo un telaio open source in realtà potrei anche fare una mia versione volendo la cosa che cambierei come prima è che farei i fori 20x20 che trovate qui sotto con fori M3 ve l'ho già detto prima non ha senso secondo me farli M2 perché ormai nessuno li usa in M2 e poi siccome non ho necessità di avere la terza scheda ma qua ci starebbe addirittura la quarta scheda abbasserei la top plate quindi la top plate almeno un 5 mm più bassa quindi andando a modificare gli stand off e i braccetti per il resto il telaio è sicuramente una buona opzione non posso parlare per ora della resistenza anche se ho visto altri usare questo telaio in pista e per me si comportava abbastanza bene come resistenza agli urti e a parte quello per ora ci ho volato ma non super spinto e spero di riuscire a portarlo in una pista di quelle belle veloci per vedere come si comporta e se sento tanto la differenza rispetto al Fox il discorso rispetto al Fox è molto semplice questo costa chiaramente di meno se lo prendete dalla Cina cioè dal sito ufficiale di Team Blackship lo pagate 20 dollari 25 se comprate anche i rinforzi e quindi con il prezzo di un Fox diciamo che ne riuscite a prendere 3 qual è però il discorso? è che quei prezzi li li avete solo se ordinate dalla Cina mentre il Fox se rompete un braccetto con 3 euro lo comprate dall'Italia e vi arriva il giorno dopo il Fox secondo me è comunque un telaio superiore che ha soluzioni pensate meglio rispetto a questo questo è sostanzialmente una base su cui poi ci sono nate varie evoluzioni anche questo non è un'idea originaria come Framebox ci sono stati Framebox prima di questo e prima del Fox chiaramente ma riesco a vedere come Finz abbia potuto magari provare un telaio come questo e poi fare le modifiche che farei anche io sinceramente perché vi dicevo ci sono alcune soluzioni che qui sono secondo me un po' vecchie e da lì nasce lo sviluppo del Fox non sostituirò i miei Fox con questo però ero veramente interessato a provarlo perché magari per chi ha un budget ristretto e vuole veramente risparmiare il più possibile può essere un'opzione sicuramente vi lascio il link in descrizione sia da TBS dove lo pagate il meno possibile ma anche da Drone 24 Hours dove questo telaio se non sbaglio costa circa 30 euro è un po' di più rispetto ai 20 dollari dalla Cina però sperito dall'Italia può avere un senso assolutamente altra cosa che vi faccio notare è che se vedete lo stack qui con due schede mi lascia parecchio spazio sopra quindi su questo telaio non ci sarebbero problemi a fare una versione digitale sia HD0 montando la scheda come terza scheda sia Volkswagen assolutamente senza problemi mentre per DJI credo che una Caddx vista si potrebbe far stare qua sopra magari facendola naked tanto si potrebbe andare ad usare una potenza un po' più bassa della massima e quindi diciamo il posto c'è anche per trasformarlo in un telaio ibrido con digitale come sempre se avete domande lasciatemi un commento e se il video vi è stato utile iscrivetevi al canale lasciate un mi piace cliccate sulla campanella per ricevere notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video grazie per l'attenzione ciao